La maggioranza delle persone non può gestire la libertà, cercano sempre di legarsi, ma parlando di libertà tutto il tempo, perché la libertà richiede coraggio, la libertà richiede una certa pazzia, possono catturarmi, possono torturarmi, possono fare così tante cose, ma non possono invadermi. Tutti i ragazzi devono imparare canzoni come questa, altrimenti non puoi far colpo sulle ragazze. Pur essendo circondati da così tante persone, ci manca ancora quella sensazione di appartenere a qualcuno, di essere accettati da qualcuno, di essere amati da qualcuno. Come dovremmo gestire quell'insoddistrazione e solitudine? Da una parte, molte domande riguardano come posso essere libero da questo e quello. Ad un altro livello chiedi come posso legarmi a qualcuno o a qualcosa. devi decidere qual è il valore più alto nella tua vita, libertà o vincolo. Per favore, vorrei sentire quella parola. Oh, libertà. Ma se sei libero, ti senti perso. Se vai nelle montagne e sei totalmente libero, cioè nessuno intorno, niente intorno, sei solo nello spazio vuoto delle montagne, non ti senti libero, pensi di essere perso. Per gestire la libertà ci vuole una certa chiarezza e forza. La maggioranza delle persone non può gestire la libertà. Cercano sempre di legarsi, ma parlando di libertà tutto il tempo. Se li rendi davvero liberi, soffreranno immensamente. Quindi, questa è una questione evolutiva. Nel senso, gli esseri umani al momento sono così. Sì, un uccello in gabbia. Se tieni un uccello in gabbia per lungo periodo di tempo, poi un giorno togli la porta della gabbia, comunque l'uccello non volerà. Da dentro protesterà che non è libero, ma non volerà. La condizione umana è proprio quella. Per tutte le altre creature, la natura ha tracciato due linee entro le quali devono vivere e morire, ed è ciò che fanno. Ma solo per gli esseri umani c'è solo una linea inferiore, non c'è linea superiore. Ed è di quello che soffrono. Se anche la loro vita fosse fissata come la vita di ogni altra creatura, non sarebbero stressati, non sarebbero ansiosi, non faticherebbero per come gestire la propria intelligenza. ed è quello che cerchi senza saperlo. Potresti cercarlo sotto forma di relazioni, potresti cercarlo sotto forma di professione, potresti cercarlo sotto forma di nazionalità, etnia, comunità, Dio, Paradiso, Inferno. Tutto quello che cerchi di fare è tracciare una linea artificiale che non esiste. Perché la libertà richiede coraggio. La libertà richiede una certa pazzia. Se sei molto sano di mente, non puoi essere libero, perché andrai tra le due linee della logica. Per essere libero ci vuole molta forza. Prima di tutto, ciò che deve succedere se vuoi essere libero è... Capisci che tutta l'esperienza umana ha una base chimica? Ci siete? Ciò che chiami gioia è un tipo di chimica. L'infelicità è un altro tipo di chimica. Lo stress è un tipo di chimica. L'ansia è un altro tipo di chimica. L'agonia è un tipo di chimica. L'estasi è un altro tipo di chimica. Almeno l'estasi sai che è un altro tipo di chimica, ho sentito. Quindi, la tua esperienza di vita ha una base chimica. Questo è il modo più superficiale di osservare questo. Ci sono altre dimensioni, ma per la tua comprensione... O in altre parole, ciò che chiami me stesso in questo momento. Sei un brodo chimico. La domanda è solo, sei un brodo fantastico o un brodo mediocre. Sì o no? In questo momento, se hai una chimica di beatitudine... Se chiudi gli occhi è fantastico. Se apri gli occhi è fantastico. Se qualcuno è qui è fantastico. Non c'è nessuno? È alquanto fantastico. Sì o no? Ma hai una chimica mediocre. Se li guardi, se ti sorridono è carino. Non fantastico. Se ti guardano così, all'improvviso è un problema. Se queste persone accadono proprio come vuoi, la tua chimica è ragionevolmente equilibrata. Se fanno qualcosa che non ti piace, va da qualche altra parte. Essenzialmente, non hai osservato questo meccanismo. Qual è la base di questo? Come funziona? Come posso farlo funzionare al suo livello più alto? In questo momento, diciamo che sei davvero estatico come me. Ti importa chi c'è intorno, chi non è intorno? Se sono intorno, è fantastico. Spariti. Fantastico. Perché la tua esperienza di vita non è più determinata da ciò che hai e ciò che non hai. Che siano persone o cose, cibo, questo o quello. Non è determinato da quello. Quando il tuo modo di essere non è determinato da niente al di fuori di te, allora non esiste una cosa come la solitudine. Ma ti godrà il tuo stare da solo perché, che ti piaccia o no, a questa giovane età è un po' difficile comprenderlo. Che ti piaccia o non ti piaccia, all'interno di questo corpo sei sempre da solo. Non è così? Che tu abbia un'interazione, un rapporto sessuale o quant'altro. Comunque sei da solo in questo corpo, sì o no? Ci siete? Se non impari come gestire questo stare da soli, non hai imparato niente sulla vita. Questa è la cosa più bella. La cosa più bella della vita è nessuno può arrivare qui, è il mio spazio e basta. Sì o no? Non è questa la cosa più bella. Nessuno può invadermi. Possono catturarmi, possono torturarmi, possono farmi tante cose, ma non possono invadermi perché è uno spazio che è solo mio. Non è questo l'aspetto più meraviglioso della tua vita? Non soffrirne è la cosa più bella. Ma tu vuoi struggerti un po' romanticamente e goderti quel... Quali sono quelle canzoni? Canzoni popolari. Distruggimento per qualcuno. Senza di te non posso esistere. La maggior parte delle canzoni sono così adesso. Canta una canzone. Le più vecchie, le più vecchie. Canto malissimo. Canto malissimo. Dimmi le parole, canterò io. Penso che... Dillo nel microfono. Lo dici a me, eh? Ok, ok, ho capito. La canzone che cantava lui. Tutti i ragazzi devono imparare canzoni come questa, altrimenti non puoi fare colpo sulle ragazze. Ma... Le ragazze dovrebbero capire che il ragazzo ha un bisogno e sta facendo questo non è proprio vero. Ma godiamoci il gioco adesso. Perché ciò che facciamo è solo un certo gioco. È la vita. Perché arriva una fine. ma la cosa importante è come sei dentro di te. Se sei qui in modo tale che sei solo spinto dai tuoi bisogni vivrai una vita molto misera. Ma se puoi sederti qui senza alcun bisogno ma farai tutto, qualunque cosa è necessaria allora vivrai una vita magnifica. E' mio desiderio e mia benedizione che ognuno di voi debba avere una vita fantastica. Fallo accadere per te adesso. Grazie.